Sfidando i monti con l'arrampicata a mani nude a Vigianello iniziativa per diffondere questo sport. Due giorni di free climbing a Vigianello, la manifestazione organizzata dal Comune, dalla Proloquo e dall'associazione Volta alla Carta. Ce ne parla Dino Battista. Il free climbing, una disciplina sportiva poco conosciuta fino a qualche tempo fa. Oggi, forse per amore della natura o anche per sfidarsi o per una maggiore autostima, sono in tanti che iniziano a praticarlo. Tanto che in due giorni a Vigianello sono arrivati oltre 70, tra adulti e bambini, dalle regioni limitrofe. Armati di corde, imbragature, caschi, scarpette e moschettoni, si sono arrampicati sulle pareti di roccia appoggiata, seguendo le istruzioni di quelli più esperti per imparare a scoprire le tecniche e le emozioni che offre questo sport. Sono venute anche persone di diverse regioni d'Italia, proprio per toccare la roccia di Vigianello, una roccia bellissima come potete notare. È una pietra appoggiata, praticamente fa sì che sia una vera scuola di arrampicata. Infatti abbraccia praticamente quelli che sono i gradi di difficoltà, quelli basici. arriva fino a un 6C, abbiamo anche qualcosa di abbastanza, insomma, un pochettino più difficile. Però la cosa importante è che praticamente si ha questo approccio, questo primo approccio all'arrampicata. Arrampicata che noi utilizziamo anche come arrampicoterapia, perché oltre ad essere una pratica sportiva, vi posso assicurare che è un antidepressivo naturale. Vigianello, da poco inserito nell'elenco dei 226 borghi più belli d'Italia, continua a proporre appuntamenti che puntano alla scoperta del territorio ed in particolare della montagna. L'arrampicata è sicuramente il modo ideale per scoprire l'ambiente in questo magnifico angolo del Pollino.